Questa è l'Antartide, vedete? Qua al colo sud. E questa è l'Antide. Che colore è questo? Blu. Blu. Come? Blu. Blu come il mare. Sì. Eh? Perché l'Antide in realtà è un mare, è il mare glaciale antico. Su cui galleggiano i ghiacci, che sono tutti ghiacci marini, cioè ghiaccio salato. L'Antartide, come vedremo dopo, invece è cos'è? Blu. 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 È bianco. È bianco ed è un continente. Sotto questo ghiaccio c'è la terra. Dopo lo riprendiamo. Allora, come dicevamo, questa qui è l'Antartide. Vediamo se riusciamo a risultarci. Questa sapete che cos'è? La riconoscete? L'America. È l'America del sud. È l'America del sud. Questa qua? L'America. L'America. Bravi. Bravi voi e le maestre. E adesso diamo sul difficile. Questo? L'Australia. L'Australia sta nascosta qua dietro. L'Australia. Bravi. Madagascar. Adesso la forza di vedere i cartoni animali l'avete imparato, eh? Di fatti, vedete, l'Antartide è qui sotto ed è circondato dal Sud America, dall'Africa con il Madagascar e da quest'altro lato dalla Australia. E qui, sapete che cos'è? Nuova Zelanda. Allora, come dicevamo, l'Antartide è un continente, cioè sotto tutto quel bianco c'è roccia, c'è terra. È il continente che contiene il Polo Sud. È il più freddo, è anche il più freddo dell'Antide, perché se non altro, in Antartide, Antartide, essendo un continente si arriva ad altezze di oltre 5.000 metri e quindi oltre alla latitudine c'è il problema del... voi lo sapete che cos'è la latitudine? Sì! È in sostanza la distanza dall'Equatore. La Terra è tutta dagli anni a fettine, che sono i paralleli, questo è il parallelo a zero, il puntino qua sopra è il Polo Nord, che sta all'altitudine 90 gradi nord, e qua sotto, al centro dell'Antartide, c'è il Polo Sud, che è 90 gradi sud. è ancora inesplorato, per gran parte, il continente, vediamo se è ricoperto l'altro qua. Ecco, il Polo Sud è al centro, il puntino al centro di tutta questa massa bianca è il Polo Sud. È ricoperto di ghiaccio, dopo vedremo anche la differenza tra ghiaccio dolce e ghiaccio salato. È la più grande riserva d'acqua dolce al mondo, che l'acqua è un elemento importantissimo per la vita, l'aria e l'acqua sono fondamentali, lo stiamo imparando ora. e come abbiamo già visto, l'Antartide è al centro ed è circondata dall'Africa, dall'America del Sud e dall'Oceania. Qui c'è l'isola della Tasmania, dove ci sono i diavoletti, no? E questa è la Nuova Zelanda, da dove la nostra spedizione parte, perché noi abbiamo la base in questo punto qui. Questo mare qui si chiama Mare di Ross e l'Antartide si divide, qui dove è più stretta, in Antartide occidentale e Antartide orientale, che è la più grande. E questo punto più stretto sta tra il Mare di Ross e il Mare di Wedden, questo qua. La base italiana, le basi italiane stanno in questo settore, sotto la Nuova Zelanda. Allora, come dicevamo, il ghiaccio marino è quello che si forma sul mare, che comunemente viene detto pack, in inglese tutti lo conoscono come pack, c'è anche una parola italiana che è banchisa, che si conosceva ai tempi del comandante nobile, quando col dirigibile volò sulla banchisa polare, altica. Allora, d'inverno l'estensione del ghiaccio raddoppia praticamente questa superficie e con le navi non si può arrivare, perché le navi non riescono a tagliare tutto questo ghiaccio. Ci si può camminare sopra volendo, ma è enorme. Considerate che voi vediamo un po' se riusciamo a ritrovare la Grecia. La sapete identificare qui l'Italia e la Grecia? Vedete come sono piccole? Guardate quanto è grande l'Antartide, l'Antartide è 15 volte l'Italia, è una volta e mezza l'Europa e quando c'è la banchisa intorno diventa addirittura doppio. Invece delle strade praticamente vedete il ghiaccio si rompe, rimane solo in certe zone e diventa accessibile alle navi perché tutti intorno all'Antartide come vedremo ci stanno le basi scientifiche. Non c'è nato mai nessuno in Antartide, a parte i pinguini. Ecco, vedete, quando si rompe la banchisa si rompe tutti in pezzettoni così, questo è il ghiaccio tabulare e piano piano le correnti marine lo portano a spasso nel mare. Ecco come una sezione di Antartide, vedete sotto c'è la terra, la roccia, ci sono le montagne e sopra ci si appoggia una neve che siccome è sempre freddo non si scioglie mai e la neve aumenta, aumenta. La forma di quello che si chiama plateau, cioè il grande piano antartico, ripropone più o meno le stesse forme che stanno sotto, cioè dove c'è un punto alto, si vede che sotto c'è una montagna dove si abbassa un po', vuol dire che ci sono delle valli, ma questo spessore di ghiaccio nel plateau è dell'ordine di chilometri, nel punto più alto arriva a 4 chilometri. Il ghiaccio, man mano che nevica la neve si accumula, scivola verso il mare, vedete, e forma quelli che sono i ghiacciali, le lingue ghiacciali, le lingue ghiacciali. Vedete che c'è differenza tra un iceberg che sono enormi, alti più grandi dei palazzi, e il ghiaccio tabulare, quello della banchisa, che rimane sempre piatto. Ecco qua, vediamo, questo è come si formano le lingue ghiacciali. Vedete, quello è il ghiaccio dolce, di acqua dolce, che viene dal continente, scivola verso il mare, si allunga, incomincia a galleggiare sul mare, man mano che scivola, perché scivola sempre lentamente, non mi sta mai fermo, e quello che si chiama la legge del fil di ferro, a forza di galleggiare con le maree e far su e giù, si spezza e poi va in giro per il mare e forma gli iceberg. Voi sapete la storia del Titanic? Ecco, il Titanic è andato a sbattere, chi non la sa poi magari la domanda a casa, chiede a casa. Ecco, questo è il ghiaccio marino, quello che abbiamo visto prima nella fotografia tabulare, e questo è il fondo roccioso. Vedete, in questo grande continente, che è una volta in mezzo l'Europa, ci stanno soltanto 50 basi, e poi stanno soprattutto tutte lungo la costa, perché dentro ce ne sono pochissime, ce ne sono 5. Questa qui, che bandiera è? Brava, al Polo Sud c'è una base americana, questa qua? Bravi, quest'altra? Ecco, questa qui è Concordia, dopo ne parleremo, la base interno francese, questa è difficile, vediamo un po' se la sapete? Bravi, complimenti. Cina, e questa? Messico, no, è India questa. Questa invece? Ecco, vedete, tutte le basi che stanno sul plateau hanno vicino una base che si chiama base logistica, no? Quella cinese ce l'ha qui, quella russa ce l'ha qui, quella italiana ce l'ha qui, questa francese ce l'ha qui, quella americana ce l'ha qua. Anche un'altra parte, anche un'altra parte, qua, questo è Palmer, e questo è McWood, vediamo un po', questa che base è? Bravi, e questa bella colorata? Eeeh, 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 vediamo un po'? Algeria! Bravi! No Algeria, questo qua giù, chi è che aveva detto prima? Sudafrica, bravi, bravi. Eeeh, insomma, vedete che in Atlantide più o meno siamo rappresentati, diciamo, l'80% della popolazione mondiale, i paesi che... l'Atlantide non è di nessuno, cioè tutti si possono andare, e chi vuole va lì e fa la sua base, però bisogna tenerla pulita. Ecco, come ci arriviamo noi? Noi partiamo dall'Italia, o con l'aereo, o con la nave, giriamo tutto il mondo, perché l'Italia... vedete? L'Italia è qua, e la Nuova Zelanda è qua, sono esattamente agli antifoti, cioè noi per andare dobbiamo girare proprio letteralmente metà del mondo. Poi, arrivati in Nuova Zelanda, Kreisci, l'avete mai sentito dire? I terremoti di Kreisci? Negli ultimi anni i poverini sono stati scorsi diverse volte, e da qui, o con la nave, che ci mette una settimana per arrivare, o con l'aereo, che ci mette sette ore, si arriva qua, qui è dove abbiamo la base noi, e poi da qui si parte con quest'aereo piccolino e si va qua a Concordia, sul plateau, dove abbiamo la base con i francesi. Invece i francesi, loro ci arrivano da qua con i trattori. Ah, già quello lontano ci scrive. Oh, voi lo sapete che ai poli c'è la notte polare? Sì, sì, sì. Eh? Sì, sì, sì. Questo perché abbiamo l'asse terrestre inclinato, vedete, al Polo Sud ci sono soltanto un giorno e una notte all'anno. Il giorno dura sei mesi e la notte dura sei mesi. Il sole sorge quando è il solstizio di primavera per loro. Quello che sopra l'equatore è il solstizio d'autunno, sotto l'equatore diventa il solstizio di primavera. Le stagioni sono invertite e quindi si comincia a vedere all'orizzonte e poi il sole per sei mesi continua a girare intorno. A qualsiasi ora del giorno tutto lo trova intorno, che gira e sale, gira e sale, fino a che arriva al 23 dicembre, mi sembra, che è al punto più alto. Dopodiché continua a girare e si abbassa fino a quando, al 21 marzo, scompare sotto l'orizzonte e dopo inizia il bugio per sei mesi. Questo al Polo. Nello spazio tra il circolo polare e il Polo si ha perlomeno un giorno in cui il sole è sopra l'orizzonte, perlomeno una giornata. Nella zona intermedia tra il circolo polare e il Polo si hanno, in un certo periodo dell'anno, si hanno le giornate in cui il sole sta sempre sopra l'orizzonte. Ecco, vedete, ad esempio a Concordia, dove abbiamo visto prima sul plateau, da ottobre a gennaio c'è il sole sempre sopra l'orizzonte, mentre da aprile a settembre non si vede mai il sole. Nel periodo da febbraio a marzo è come qui da noi, cioè il sole tramonta e soggie. In ogni caso è sempre molto basso sull'orizzonte. Vedete com'è l'effetto della luminosità? Ed è una cosa caratteristica delle zone polari. Ecco, è un posto che, come diciamo, è molto freddo. È difficile starci. Vedete che succede a quelli che stanno al polo? Lo sapete dove si soffre di più il freddo? Al polo sud. Al polo sud. Ma nel corpo umano il freddo dove si soffre di più è nei buchi del naso. Perché quando è tanto, tanto freddo è l'unica parte che non puoi coprire. E allora tutte le volte che respiri e tiri dentro l'aria, l'aria a meno 40, a meno 50, senti che nei buchi del naso ti pizzica proprio, come tutti i spilli. E non puoi evitare di respirare, ovviamente. Vedete, in Atartide è famoso anche per i venti forze, forti, sono arrivati a 320 km all'ora i venti. Sapete quant'è 320 km all'ora? Neanche una macchina da corsa, ma è anche 320 km all'ora. Vedete il vento come gonfia il cappuccio? Si sta in piedi anche che uno si sporge in avanti, il vento ti tiene in piedi. Ecco, dicevamo, questa è la stazione Mario Zucchelli, dove stiamo noi, qui c'è la Nuova Zelanda più o meno e questa è la stazione Concordia e si prende un aereo questa distanza, vedete, è come tutta la lunghezza dell'Italia sono 1200 km è come andare dalla Sicilia al Trentino vedete, questo è l'aspetto della stazione Mario Zucchelli si vedono le rocce, si vede un po' di neve si vede il mare il pack che si è lotto questa ovviamente è una fotografia di un periodo estivo perché quando è freddo invernale qui davanti è tutto a bianco e questi sono gli edifici della stazione Zucchelli questa è la base, questi sono gli hangar le officine, i magazzini ecco la freccia che indica dove è la stazione Zucchelli e questa è la stazione Concordia che sta sul plateau qui si sta da 3500 metri in quota, si respira anche male quando si va su in alto in montagna l'aria diventa sempre più rarefatta è sempre più difficile respirare e vedete, è tutto bianco tutto intorno è tutto bianco per chilometri e chilometri fino alla costa la stazione è fatta da questi due cilindri che sono tre piani e sono stati fatti due cilindri perché se per caso uno prende fuoco c'è una grande porta qui in mezzo tutti scappano nell'altro chiudono la porta e almeno possono arrivare di nuovo a fine stagione aspettare che poi a fine stagione arrivino i soccorsi questi sono i mezzi aerei con cui ci muoviamo questo è l'Hercoles che fa i voli intercontinentali tra la Nuova Zelanda e l'Antattice vedete, ha le ruote deve alterrare su un ghiaccio duro se no si affonda invece questo è il Tuenotter è quell'aereo piccolino vedete, questa è la persona che ha solo due motori in questo c'ha quattro motori che ha gli sci e quindi può alterrare sulla neve e arriva a Concordia questo invece è un elicottero che vedete esce dalla pancia dietro dell'Hercoles qui dietro si apre questo portellone e può trasportare addirittura due elicotteri insieme due elicotteri entrano dentro la pancia di un aereo questo è un volo tra i ghiacciari e questi sono i mezzi che usiamo in Antartide vedete questo è il gatto delle nevi e qui sono tutte macchine con grosse ruote per poter camminare anche sulla neve e sul ghiaccio questa è la nostra nave vedete come entra nei ghiacci dopo per scaricare usa le gru e si scarica direttamente sulla banchisa ecco qua questi sono i lavori che si fanno in Antartide quello che fanno in Antartide si fa ricerca scientifica qui lanciano dei palloni stratosferici questi si gonfiano si gonfiano e arrivano altissimi fino a 30 km servono per le osservazioni astronomiche vedete questo è un grosso vulcano attivo fuma questo qui è il monte Erbus qui c'è un ricercatore che sta facendo dei campionamenti d'aria voi avete sentito parlare dell'inquinamento l'inquinamento atmosferico certi giorni mi sa che anche qui a Tene si sente una buzza nell'aria ecco praticamente lui con questo misura l'inquinamento che arriva fino in Antartide per vedere se si arriva fino laggiù è un impattore questo è un subacqueo con una fotografia fatta da sott'acqua questa banchisa polare è spessa circa due metri si fa i buchi e come le fuoche si sbuca fuori sul parco quando vanno a fare l'inversione i subacquei per non perdersi sotto il mare sono sempre legati vedete questa corda vuol dire che sotto di lui c'è un altro subacqueo lui la corda ce l'ha qua e quest'altra è quella dell'altro subacqueo perché sott'acqua ti puoi perdere e se non trovi il buco per uscire quando hai finito l'ossigeno delle bombole può essere problematico può morire certo ecco può morire certo vedete questo è un campo quello che si chiama un campo remoto alcuni ricercatori si fanno portare lontano dalla base li portiamo queste sono le motoslitte questa è la loro noi la chiamiamo una mela perché è tonda è il loro rifugio e ogni tanto con l'aereo li portano da mangiare i viveri il cambio dei vestiti quello che è necessario ecco qua queste sono altre ricerche come vedete sempre per studiare l'impatto ambientale si fanno delle carote questi si chiamano questi buchi si estrae un cilindro di neve come questo che si chiama carota e misurano l'inquinamento nei vari anni perché a ogni profondità corrisponde un anno perché il bello della Tartida è che è nevica ma non si scioglie mai la neve quindi i vari strati di neve accumulati rappresentano gli anni e se vai molto profondo vai addirittura come abbiamo fatto noi insieme ai francesi siamo arrivati a oltre 3000 metri di carota di ghiaccio puoi trovare quelle che si chiamano inclusioni del ghiaccio vedete questo tipicamente in questa carota di ghiaccio grigia queste sono cineri vulcaniche vuol dire che in questa era corrispondente a questa profondità nel ghiaccio c'è stata una grande funzione vulcanica le cui cineri sono arrivate anche sulle nevi dell'Antartide si sono accumulate poi qui nelle carote si trovano le bollicine bollicine d'aria che vengono intrappolate ogni volta che nevica e quindi la carota di 3500 metri corrisponde a 800 mila anni fa e quindi sono state prese le bolle d'aria di 800 mila anni fa ed è stata analizzata l'atmosfera come era composta tra metano nitride carbonica e tutti i vari gas dell'atmosfera 800 mila anni fa ecco questa è la trivella che va giù sotto e fa il buco profondo questa è una trincea fatta nella neve vi ricordate prima il gatto della neve che aveva quella grande lama ecco questo il gatto passando e passando ha fatto la trincea è stata fatta profonda a 6 metri che è l'altezza per alzare la trivella questa qui perché questa qui viene abbassata viene presa la carota e poi viene rialzata e poi fa un altro trapanazione per altri 6 metri poi viene ritirata fuori rimessa orizzontale presa la carota di ghiaccio che diventa sempre più vecchia più vecchia man mano che si vengono messa dentro una busta di plastica pulita e poi viene portata senza farla sciogliere nelle varie università in Europa e negli altri paesi per studiare tutto quello che il ghiaccio non tiene e questo è un campionario di animali antartici siamo sempre in tempo? allora questi sono gli scua sono grandi volatori questi attraverso sono gli oceani senza problema più di un jombo jet e questo è un pulcino di scua vedete? poi questi che cosa sono? che cosa? creme creme bravi io avrei detto gamberetti e creme è scritto ah pistola questo ingegnere ecco questo è il cibo per le balene le balene e altri altri animali i pesci antartici i pinguini mangiano tanto di questo qui e le balene quando aprono la bocca lo sapete hanno una specie di filtro mandano dentro tanta acqua filtrano tutto il krill che sta in mezzo all'acqua e il resto lo buttano fuori vedete quello spruzzo che hanno le balene sopra ma questo è anche il motivo per cui tanti pescherecci vanno giù in antartide io qui non so se dopo facciamo vedere un filmato di una guerra in antartide tra pescatori vedete come sono brutti perché la mamma li ha fatti così non tutti sono fortunati belli come voi allora questi sono i pesci antartici che hanno una caratteristica che hanno il sangue bianco non hanno l'emoglobina perché loro stanno nell'acqua costantemente a meno 2 gradi dice perché non gelo perché è l'acqua di mare che c'è il sale dentro e quindi con quella concentrazione salina la temperatura di congelamento è meno 1.8 quasi meno 2 e loro sotto la temperatura è costante in tutto il mare glaciale antartico nell'oceano antartico e e quindi loro si muovono lentamente è tutto lento la vita nel mare l'accrescimento è lento i movimenti sono lenti il freddo li rende molto lenti quando vanno in subacqua addirittura li catturano con le mani però è importante perché hanno scoperto il sangue di questi pesci che contiene una proteina che ovviamente rende il loro sangue fluido proprio perché sta a temperatura molto basse ma questa stessa proteina trasformata in medicinale rende fluido anche il sangue delle persone quindi le persone che hanno avuto un infarto gli danno questa medicina è stata un'importante scoperta questa proteina che sta nel sangue di questi pesci antartici perché rende più fluido il sangue anche degli umani e questi sono i pinguini di Adelia vedete dopo vi faccio vedere una cosa che questi invece sono i pinguini imperatori un pinguino di Adelia è alto così un pinguino imperatore è alto così è più del doppio e vedete i pulcini crescono questi grigi sono i pulcini crescono a una velocità incredibile perché devono subito proteggersi dal freddo queste sono le foche le malene le orche e questi sono gli animali che ne ha tanti e non ci sono più che cosa sono? bravi sono gli aschi allora l'esplorazione dell'antartide è iniziata con gli aschi non solo anche con altri animali con i poni e tant'è vero che proprio l'ultima volta un bambino mi ha fregato perché gli ho chiesto chi è stato il primo a arrivare a Pono Sud e io pensavo al grande esploratore norveggese a Muzze un silenzio in aula dopo un bambino fa un aschi dico c'è ragione per forza nessuno l'aveva detto ma prima di raggiungere Pono Sud è di stato un aschi però hanno scoperto che loro portano dei virus sapete quando gira l'influenza noi ci salviamo perché abbiamo le difese immunitarie e anche i cani hanno il loro virus e sapete che i virus si trasmettono tra persone tra persone uguali cioè tra esseri dello stesso genere e serve una certa affinità di genere per potersi trasmettere ora hanno scoperto che i cani hanno una certa affinità con le foge e siccome loro hanno le difese immunitarie non succede niente però se uno dei virus che portano questi animali potesse attaccare una foca dato che quegli animali non hanno difese immunitarie farebbe una strage in pochi anni perderemo tutte le foche e allora è stato deciso nell'87 di portare fuori tutti i cani dall'antattica e sono stati sostituiti da che cosa? ve l'ho fatto vedere prima dai poni? no da una cosa meccanica cos'è che tira le slitte adesso? le moto slitte brava la moto slitta vedi che è la bambina i cani sono stati sostituiti inandati dalle moto slitte ora vi ringrazio ma visto che abbiamo tempo facciamo un po' di filmati vediamo se io ci siamo tutti vedete che i pinguini sembrano animali carini ma certe volte fanno come voi e peggio di voi guardate come litigano questi due eh vedete come si prendono schiaffi e gli altri tutti attorno guardano probabilmente stanno litigando sono oggi le comiche eh ma guardate le fiume che volano ma vedete quanto è grande la pinguinaia qui si fa dietro sono tutti pinguini è come una città guardate sta felicità e considerate che per andare giù al mare questi stanno a una quota di circa 80-100 metri si arrampicano sulle rocce è incredibile eh voi potete immaginare che anche loro litigavano lei non sa chi sono io eh vedete una panciata per fortuna non è così frequente vedere una scena del genere una pinguinaia probabilmente staranno litigando per un dito perché qui è una zona abbastanza in piano e viene comodo per confinirci un nido ah la pinguinaia poi è curioso che ci chiede Andrea Grazie. 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 Questa è una pinguinaia di pinguini imperatori, vedete qual è la differenza? Quelli di prima stanno sulla roccia e fanno i liti con i sassolini, questi invece stanno sul ghiaccio e lo mettono sui piedi, hanno una grande pancia e praticamente lo tengono caldo, accoggiando, vedete che hanno i piedi corti vicino alla pancia, luogo per covarlo, se lo mettono tra i piedi e ci accoggiano la pancia sopra, questo è un gatto delle nevi e questa è una trivella che fa un buco nel ghiaccio marino, vedete, sotto c'è il mare, tirano fuori la carota di ghiaccio e hanno fatto il buco per entrare dentro, ecco questo è il carrocchiere, quello che ha fatto quel buco nel mare, vedete questo è tutto il ghiaccio crepacciato, e questo è quello che non si deve fare, scendere dall'elicoltro con le cuffie attaccate, perché sennò il pilota ti dà una bacchettata, quindi è un po' lupio. Qui è quando si fa merenda o codice 2, questa è l'officina della base, e questo è il grande magazziniere, va bene, tutte le volte che ci serve qualche cosa in base andiamo da lui e nei magazzini ce lo tira fuori. vedete che paesaggio? Questo è quello vicino alla costa, sono i resti di una foca, vedete le vertebre, i denti, gli animali morti non si decompongono mai, e la pellagra di un certo anno, come vedete questo è un nido, sono tutti niti, vedete con il becco come fa il il nido, con il esossolito. Guarda! Guarda! Questi sono piccole focche, tutti questi puntini, che escono da quella crepa, che vengono fuori, che prende il sole, vedete queste sono tutte foto, questa è un cucciolo che sta aggiungendo il latte della mamma, perché le foto sono mammiferi, mammiferi. E' perché non gli piaceva quel signore, queste sono le capanne storiche dei primi esploratori. No, 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 questo è sulla costa, One Tongue Depot stava nell'interno. E questa qual è? Credo che sia quella di Cesar, che sono anche i droghi. Quei ragazzi sono quelli che volontariamente ogni tanto vanno in andarsi e devono ristaurare queste vecchie capanne storiche, perché per tenerli in piedi con quei venti non è certo facile, e sono tutti volontari. Vedete una volta com'era la base degli esploratori di Scott, Munson, Shackleton. Qui si preparano i sovacquei, vedete le carote, questo è il medico con la ragazza. Ci pensate di andare sott'acqua per mezz'ora con l'acqua a meno due? Non è una cosa che scompaiono sott'acqua. Mettiamo la scaletta, quando si fa il buco, perché la scaletta ne mettiamo quando nel pacchettivo, e se va cos'è ne va sotto, vedete le corde che gli fanno sicurezza, no? E questo è il mare sott'acqua in Antartica. Vedete, queste sono tutte conchiglie, si chiamano Adamuscio. Ci sono anche delle marine. E qui sotto il ghiaccio è dove si attaccano le larghe dei pesci. Quando il pacco si scioglie, le larghe dei pesci vanno sul fondo e nascono i pesciolini. E allora qui, subattolo, ci sono i dati. E allora qui, subattolo, ci sono i dati.